Donare il sangue significa salvare tre vite, questo l'accorato appello del dottor Carmine Oricchio, primario del centro trasfusionale dell'ospedale di Polla, che davanti alle nostre telecamere ci ha illustrato anche i nuovi metodi di diagnosi e soprattutto di prelevo del sangue. Il reparto dell'ospedale Curto dispone infatti di un'innovativa macchina che porta a beneficio ai pazienti, ai donatori e a chi riceve il sangue. Ma come funziona soprattutto chi può donare il sangue? È fondamentale giustamente scrinarsi e quindi fare dei controlli ed è opportuno appunto venire qui in reparto a donare il sangue. Chi può donare il sangue? Possono donare il sangue tutte le persone che stanno in apparente stato di buona salute. Questo produce due effetti importanti. Uno che riguarda soprattutto il donatore, in quanto il donatore ha la compensazione della soluzione fisiologica, quindi dopo aver donato, sempre con la stessa vena, non è che dobbiamo avere due venopunture. E poi per quanto concerne chi riceve questo sangue, questo sangue è giustamente avvantaggiato perché il plasma è un plasma A, significa che uno dei migliori estratti in quanto i fattori della coagulazione non vanno persi e poi le mazze concentrate sono anche filtrate.